Andiamo, cosa dite? Che ti voglio dire? Che vuoi che ti dica? Dimmi tu, che è un piacere avervi qua come ospiti è sempre un piacere Grazie a voi Nino che ci ha ospitato E poi una cosa ti hai fatto la capa paglietta Ah, queste fanno certi caccerati a Napoli le fanno per i detenuti Ego Solidale E quindi si notipa Ego Solidale Io, più Solidale però Sei Ego? Solidale, Solidale Bravo, bravo, complimenti E' bene così Tutto lo studio, te la cipolla A un bar A San Marzano su Sarno Capitano Liva, andate a prendere il caffè lì, che è un caffè ottimo buono, io ci vado con la bicicletta quella è purtroppo mazza mia Ora vi passo la titolare del bar e vi faccio spiegare a lei Sì, scusa, ma dove ti trovi? Fammi una domanda che ti rispondo Dove si trova questo bar il caffè ottimo? Io sono andato a prenderlo parecchie volte a San Marzano sul Sarno vicino a Franzo San Marzano, San Marzano sul Sarno via Capitano Liva numero 2 Io vado con la bicicletta purtroppo quello è il mio modo di camminare grazie Grazie Va bene, va bene Va bene, va bene A zia, a zia A zia, a zia A zia, a zia Non lo manco, grazie A zia, a zia A zia, a zia Non lo sapevo l'uno è 28 Cosa dite del vostro compleanno? Campate ancora voi? No, non ho Voi Non ho massimo Scusate Quale mi dico non ho massimo? Non ho massimo Ma Aire state il compleanno Sì, stai un momento Si sente la regia Sì, stai un momento Sì, stai un momento Sì, stai un momento Quello è il fame La regia Fa solo il bordale Si ferma il pacchione Ma voi Campate ancora? Campate ancora? A zia A zia A zia A zia Ma voi Campate ancora? A zia Oltre mille anni? Sì, sì Non è vero Perché Campate? Va bene Allora Vi passo Allo studio Tutti Vi auguro Un buon felice Onamastico Grazie, grazie Sì No, onamastico Per cento anni Onamastico Per cento anni Sei campato? Ancora campate? Benvenuti Ora vi Vi presento Un grande salomire Di pagani Salomire Cos'è troppo Dovano La salomeria Più Più famosa Del corso Cosa Avete la clientela Giusta o media? Come la avete la clientela? Si potete Spendere i prezzi I prezzi buoni La mia clientela Come te Oh bene Grazie Cipolla Cipolla Come ce l'avete? Cipolla Cipolla La regia Disturba il microfono Disturba il microfono Va bene Ora vi presento Un grande fotografo Un grande fotografo Campano Campano Che si chiama Morrison Come cantante E dors Che vi presenta lui E vi dice Spieghi Perché come è nata Questa fotografia Che gli piace Bello Bello Tutto cosa Tutto bello Ma mi piace Questa fotografia E farla sempre Morito 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 Il mercato Dove hai portato No Di queste banane Va bene Non ci si fai una mano Che vuoi No Che lezione Che è mosca Non ti chiedi Ah va bene Allora Il basso Il basso Il basso Il basso Il basso Il basso